Uno dei più grandi misteri che sta affrontando attualmente la paleoantropologia è capire che cosa ci fosse all'interno della testa dei Neandertal, da tutti i punti di vista. I Neandertal erano un gruppo umano diviso dal nostro da almeno 600.000 anni. Loro vivevano in Europa, in una parte dell'Asia, noi tendenzialmente in Africa, eccetto qualche sparuto caso in cui ci sono state delle espansioni che sono uscite per lo più in Medio Oriente. Fino a che circa 65.000 anni fa una di queste espansioni che arriva in Medio Oriente rimane, perdura per probabilmente almeno 20.000 anni ed è intorno a 40-45.000 anni fa che la nostra specie si esplande in praticamente tutto il mondo ed è proprio in questo periodo che scompaiono tutti i gruppi umani rimasti. Capite che alla luce di questo contesto la domanda di che cosa avevamo noi in più di loro è una domanda che continua a girare all'interno della comunità scientifica e si provano a dare risposte di ogni tipo. Oggi vi parlo di uno studio che prova ad aggiungere un tassello a questa storia dato che si è andato a analizzare una mutazione genetica, una piccolissima mutazione genetica che però sembra portare una grande differenza a livello del sistema nervoso. È uno studio complesso che parla di embrioni di top, di furetto geneticamente editati e della creazione di micro cervelli in laboratorio, non preoccupatevi perché è qualcosa di molto più normale di quello che sembra, ma prima di entrare nello specifico vi parlo dello sponsor di questo video che è NordVPN. Si tratta di uno sponsor storico che ormai supporta la crescita di questo canale da anni e che vi permette di avere una VPN, quindi una rete vostra privata che vi può essere utile in vari modi. Accedendo a internet tramite NordVPN potete anonimizzare la vostra attività online e cambiare la geolocalizzazione. Cambiando la geolocalizzazione potete accedere a internet figurando in varie parti del mondo e questo per esempio può essere utile se andate all'estero e volete accedere ai servizi italiani senza problemi. Oppure in alcuni stati non si può accedere a internet o alcuni siti anche dei più rilevanti e quindi da quel punto la VPN ovviamente è essenziale. Oppure viceversa rimanendo in Italia potete cambiare la geolocalizzazione e quindi accedere a internet da altre parti del mondo avendo accesso a servizi di altre parti del mondo. Se siete interessati vi lascio in descrizione un link a cui potete avere accesso a uno sconto esclusivo per la community. Se accedete da lì ovviamente vi costa poco e poi c'è come sempre un servizio di prova soddisfatti o rimborsati per cui nel dubbio io vi direi provate. Date un'occhiata vedete se vi può essere utile. Purtroppo nell'opinione pubblica c'è un'idea un po' distorta di Neandertal e questo è dovuto a vari fatti. Il primo purtroppo è il fatto che per decenni si è raccontato e si è detto anche a scuola che Neandertal fossero nostri antenati. Quando non è così. Non sono nostri antenati, sono nostri parenti. Sono uno dei rami dell'albero della vita, uno dei rami dell'albero del genere Homo e noi siamo un ramo parallelo a loro. Se a questa idea erronea poi ne aggiungiamo un altro, cioè quella dell'evoluzione come enorme crescita di complessità sempre per forza verso qualcosa di migliore e magari anche più perfetto, ecco che ovviamente abbiamo un grosso problema. Noi siamo inevitabilmente lo stadio successivo dei Neandertal con un sistema nervoso più complesso del loro. Ecco, dato che entrambe queste assunzioni sono erronee all'interno della comunità scientifica e Neandertal vengono trattati in modo diverso rispetto a come vengono trattati nel sentire comune. Negli ultimi decenni infatti sono usciti svariati studi che mostrano che varie popolazioni Neandertal avevano comportamenti particolarmente complessi. Tecnica di caccia molto variegata che implicava ovviamente un certo livello di intelligenza. Non solo. Popolazioni persino che si mettevano a pescare alcune specie di pesce. Non solo è emerso anche che all'interno di alcune popolazioni probabilmente c'era anche una distribuzione dei compiti tra persone diverse, probabilmente tra sessi soprattutto, e poi anche segni di livelli diversi di astrazione. Quindi ecco che emergono strumenti musicali, forme che sono probabilmente legate a dei culti e poi l'utilizzo di alcune piante probabilmente per motivi curativi. Infatti nelle ultime decenni si sta diffondendo l'idea che non necessariamente noi avessimo capacità cognitive particolarmente più sviluppate, magari semplicemente diverse dalle loro. E capite che in questo contesto molto sfaccettato appena arriva un'informazione nuova si aggiunge al puzzle. E lasciate che dica una cosa. Oggi vi parlo di uno studio di genetica e di biologia cellulare che contribuisce a dare delle informazioni all'ambito paleantropologico. Ed è una delle cose che io amo di più della scienza. Il fatto che le varie branche possono comunicare tra loro. Ormai da più di dieci anni noi abbiamo il genoma completo dei Neandertal. Osservando il loro genoma e il nostro confrontandolo abbiamo scoperto un sacco di cose. Innanzitutto che ovviamente si assomigliano tantissimo perché siamo imparentati, alla fine siamo separati da solo qualche centinaio di migliaia di anni, che dal punto di vista evolutivo è molto poco. Ma ci sono ovviamente anche delle differenze e alcune possono avere una qualche rilevanza. Alcune di queste differenze ovviamente sono funzionali e in particolare ci sono circa un centinaio di geni codificanti di cui noi abbiamo una variante e Neandertal un'altra. O perché c'è stata una mutazione da noi e quindi noi abbiamo il gene modificato o perché c'è stata una mutazione da loro e loro hanno il gene modificato. Oltre a queste mutazioni ovviamente ce ne sono migliaia non per forza sul DNA codificante ma di questo oggi non parliamo. Una delle cose che stanno facendo i ricercatori in questo momento è gene per gene cercare di capire che differenza porta a livello fisiologico o morfologico una variante piuttosto che l'altra. Il gene che è stato studiato in questo caso specifico è TKTL1 che si chiama in un modo strano e lo traduco in italiano è proteina 1 simile alla transchetolasi. Si tratta di un gene che tendenzialmente negli adulti si esprime nei testicoli ma durante lo sviluppo embrionale si attiva nel sistema nervoso e nel cuore. E io già me le immagini ricercatori quando hanno visto questa informazione hanno detto wow un gene che si attiva durante lo sviluppo embrionale proprio nel sistema nervoso e c'è una differenza tra Homo sapiens e Homo neanderthalensis. Qui c'è qualcosa di figo su cui fare ricerca. Proprio me le immaginano così che erano lì in laboratorio così con le mani tipo i cattivi dei film. Ovviamente ridevano e erano persone belle spero. E probabilmente parlavano in tedesco ma forse in inglese dentro al laboratorio di Lipsia non lo so. Pensate che queste due varianti differiscono per una singola mutazione e quindi la proteina di riferimento ha un solo amminoacido diverso che però porta a delle differenze strutturali. La nostra variante è quella mutata mentre la loro invece non è mutata e anzi è simile a quella delle altre scimmie. Coperta questa differenza ovviamente gli scienziati hanno provato a fare varie cose, ve l'elenco. Hanno preso il gene della variante umana e l'hanno inserita in embrioni di topo e di furetti. Hanno eliminato il gene della variante umana da delle cellule che poi si sono organizzate in tessuti. E poi hanno preso la variante neanda italiana, l'hanno messa al posto di quella umana in alcune cellule staminali che sono state lasciate organizzarsi in cosiddetti organoidi degli ammassi di cellule che iniziano a prendere delle strutture simili agli organi di riferimento, nel caso specifico piccoli sistemi nervosi. Due considerazioni di tipo etico prima di andare avanti. La prima riguarda gli embrioni. È normale in laboratorio fare esperimenti su embrioni. Ovviamente si parte da poche cellule e poi si lasciano sviluppare. Qui sono stati poi soppressi. Prima che il sistema nervoso si potesse sviluppare abbastanza da avere una capacità per esempio sensoriale o comunque una qualsiasi capacità di soffrire e pensare. Lo dico chiaramente perché questo tipo di cose ovviamente sono normate molto. Ci sono standardetici molto forti in Europa. Questi studi sono fatti in Germania, Alipsia. E quindi almeno da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare. Ecco. La seconda questione particolare riguarda gli organoidi che è un tema molto forte e molto difficile da trattare perché è veramente difficile da inquadrare. Gli organoidi sono veramente queste ammassi di cellule che si auto-organizzano seguendo le stesse identiche informazioni che usano durante il normale sviluppo embrionale e che ovviamente sono un tema molto caldo in questo momento. Intanto perché si stanno usando molto, si stanno molto implementando in varie branche, sono particolarmente utili perché sono molto più che semplici colture cellulari. Perché qui per esempio possiamo vedere come interagiscono i farmaci, come entrano all'interno di un organo, appunto di un organoide, come le cellule si organizzano, che non è assolutamente scontato. Proprio per questo c'è un forte sviluppo di questa tecnologia in questo periodo e ovviamente questo apre dei temi. Riusciremo prima o poi ad avere degli organi sviluppati così, auto-assemblati da soli? Oppure quando dobbiamo iniziare a preoccuparci di avere un organoide del sistema nervoso? Quando un organoide del sistema nervoso può iniziare a avere dell'attività mentale? Ecco ci sono queste tematiche che si aprono. Facciamo così, ve ne parlo, l'approfondisco in uno dei prossimi video. Anzi ditemi nei commenti se avete voglia che ne parli, sono curioso. Il risultato di tutti questi esperimenti è veramente molto interessante. La presenza della variante Sapiens all'interno di topi e furetti porta a una maggiore produzione, soprattutto nel lobo frontale, di un gruppo cellulare molto specifico, la cosiddetta radialglia. Questo è particolarmente interessante perché la radialglia è il precursore dei neuroni, in realtà anche di altri gruppi cellulari, ma soprattutto dei neuroni. E infatti in questi embrioni poi c'è una maggiore quantità di neuroni proprio in questa zona. Pensate che come effetto di questo nei furetti si vede un aumento della convoluzione dei cervelli, che è una delle caratteristiche diciamo più evidenti all'interno del nostro cervello. È uno dei cervelli più convoluti in assoluto. Proprio perché la neocorteccia tende ad avere queste convoluzioni e tante più ce ne sono, tante più c'è neocorteccia appunto in cui avvengono i nostri vari pensieri, i nostri vari processamenti cognitivi. Nei tesodi umani in cui è stata rimossa la nostra variante. Ecco che si vede un calo drastico della radialglia e quindi poi dello sviluppo di neuroni. E una cosa simile, anche se un po' meno, si vede con la variante neandertaliana. Anche la variante neandertaliana porta a una minore produzione di radialglia e di neuroni nel cervello, soprattutto nel lobo frontale. Facciamo un passo indietro, perché da decenni si cerca di capire le differenze cognitive tra noi neandertal in vari modi, ma anche guardando il nostro sistema nervoso. E in particolare cercando di capire il volume del cervello e le varie caratteristiche della forma del cervello. Per esempio c'è stato un grande dibattito legato alla dimensione del cervello. Infatti la nostra scatola cranica e quella di neandertal è comparabile, anzi in realtà in media il loro cervello era anche leggermente più grande del nostro. Eppure il dibattito sul provare a correlare la grandezza del cervello e le capacità cognitive è molto aperto, soprattutto tra specie diverse. Un esempio perfetto è quello degli uccelli. Ci sono uccelli come i corvidi o come i pappagalli che hanno prestazioni cognitive pazzesche con cervellini piccolissimi e sono capacità cognitive confrontabili con mammifoli di grandi e medie dimensioni. Allo stesso modo all'interno della nostra specie le femmine, per ovvi motivi di proporzione, tendono ad avere un cervello un po' più piccolo di quella dei maschi. Eppure quando si vanno a misurare le varie capacità cognitive ecco che in media le prestazioni sono comparabili. D'altro canto però non è neppure vero che le dimensioni del cervello non contino proprio e ci sono in letteratura dei casi, soprattutto tra gli uccelli, in cui si vede che le dimensioni contano. Ci sono svariati studi che mostrano come negli uccelli, tra specie diverse ma anche all'interno della stessa specie, individui con un cervello più grande tendono ad avere meno probabilità di morire per incidenti stradali oppure per essere cacciati da appunto i cacciatori. Quindi capite è un discorso complesso e la grandezza del cervello al massimo dà un'indicazione di massima. Dopodiché il dibattito si è molto spostato su un discorso anatomico. Il nostro cranio ha un'area frontale molto più estesa e il nostro cervello proprio la neocortecia dell'area frontale tende a posizionare lì la maggior parte delle nostre diciamo prestazioni cognitive associative. Quindi molte delle cose complesse come adesso i ragionamenti che sto facendo, le cose che sto pensando, le cose che sto dicendo, i calcoli matematici che faccio, tendo in larga parte a farli in questa area diciamo frontale. Ora, dato che c'è una sproporzione tra il nostro cranio e quello dei Neandertal, per anni ovviamente si è detto ah guardate può essere che questo spieghi in parte la differenza. I Neandertal avevano questa parte probabilmente più schiacciata, quindi probabilmente più piccola, quindi ecco che se anche il cervello loro era grande tanto quanto il nostro magari non aveva le stesse caratteristiche. Dopodiché poteva benissimo essere che quell'area più piccola comunque svolgesse tutte le funzioni essenziali e che alcune parti fossero cooptate in altre parti del sistema nervoso. Il cervello è molto più plastico di quello che si possa pensare, quindi non si poteva escludere neppure che alcune capacità cognitive varie di Neandertal avvenissero in altre parti del cervello. Questo studio però ci dà un tassello in più. C'è una certa probabilità che una differenza ulteriore fosse una diversa densità neuronale, soprattutto appunto nel lobo frontale. Questo è particolarmente interessante per un motivo i polpi, i corvidi, i pappagali, gli esseri umani sono tutti animali che hanno un fatto particolare, tendono a spiccare per capacità cognitive all'interno del proprio gruppo di riferimento e spesso hanno delle aree in cui c'è una più alta densità neuronale rispetto alla media. Questo studio quindi ci dà un elemento in più, ci fa sospettare almeno che effettivamente ci fossero delle differenze di densità neuronale tra noi e Neandertal, che forse noi potessimo avere una densità e una magari complessità maggiore della neocorteccia, soprattutto frontale, in più di loro. Dopodiché però c'è da essere cauti per vari motivi. Il primo motivo è che non possiamo essere veramente sicuri che questa differenza porti poi a una differenza comportamentale così rilevante. La stessa ricercatrice, la prima firmataria di questo articolo, in un'intervista incalzata su Nature, ha detto una cosa che a me ha fatto un po' venire i brividi e ha detto cavolo sarebbe interessante vedere i topi e i furetti non embrioni ma poi portati adulti con la variante umana se dal punto di vista comportamentale si comportano effettivamente in modo diverso dagli altri topi e dagli altri furetti. Quando ho letto quell'intervista ho pensato alle cose. A, probabilmente all'ipsi all'osterno facendo. B, dannazione sicuramente da qui a qualche anno qualche ricercatore cinese lo farà, inserirà la variante umana su dei macachi. Ormai abbiamo tutto uno storico di casi in cui questo tipo di cose sono successe. Sappiamo che gli standard etici soprattutto in Cina sono molto diversi. Poi da una parte questa cosa mi turba, dall'altra non vedo l'ora e purtroppo dentro di me ci sono sempre queste due parti che tendono un po' a lottare. C'è un secondo motivo per essere cauti, questo secondo me è il più rilevante ed è che i geni lavorano in concerto. Magari è verissimo che questo gene in particolare porta a una maggiore crescita di radialglia nella nostra specie rispetto a Neandertal. Ma poi magari Neandertal avevano un'altra variante genetica su un altro gene che andava a modulare e interagire con questo e quindi complessivamente magari non c'erano delle differenze così sostanziali. Oppure c'erano delle altre modifiche che andavano a compensare questo fatto. Per cui avrebbe molto senso aspettare un attimo, vedere se si riescono a fare degli studi inserendo più geni, non solo uno, sviluppare degli organoidi che hanno più geni e poi ovviamente il risultato massimo un giorno sarebbe quello di distinguere i Neandertal e quindi a quel punto vedere come ragiona un piccolo Neandertalino. Però questo no, questo non credo che succederà, almeno spero, questo no, spero di no, ci sono degli ovvi motivi per non farlo. Oltretutto tra parentesi, due anni e mezzo fa ho fatto un video su questo tema. Dovremmo distinguere i Neandertal. Vi sconsiglio di vederlo perché non ne sono molto contento, perché sono passati due anni e mezzo, non ero bravo a raccontare le cose, potrei farlo molto meglio ora, potrei aggiungere un sacco di cose e renderlo veramente molto più interessante. Vi interessa? Ve lo fate sapere nei commenti. Vorrei tanto rifare alcuni video del passato. Vi piace questa idea? E poi c'è un terzo motivo per essere cauti e in particolare cauti nell'aditare questa eventuale differenza, se anche ci fosse e anche fosse rilevante, come la spiegazione del perché, noi siamo riusciti in un qualche modo a surclassare i Neandertal. Seguitemi un secondo. Mettiamo anche che effettivamente noi avevamo delle capacità cognitive leggermente più elaborate e complesse proprio perché avevamo una maggiore densità neuronale. Non è detto, ma mettiamo che sia così. Questo gene probabilmente si è affermato all'interno della popolazione umana in tempi molto antichi. Ho provato ad andare a vedere se c'erano delle stime, è un gene che si trova nel cromosoma X e quindi le stime non ci sono, se volete vi spiego questa cosa, ma non adesso. Ma c'è tutto un discorso che si può fare su come le varie popolazioni umane all'interno dell'Africa si sono divise. Per essere un gene completamente distribuito all'interno dell'Africa deve essere abbastanza antico, per capirci, almeno 200-300 mila anni fa. Ora, se questo gene si è affermato tra i 200 e i 300 mila anni fa, per capirci, all'interno della popolazione umana, noi ce l'abbiamo da tanto. È da tantissimo che noi ce l'abbiamo e i Neandertal no. E quindi questa differenza da sola è difficile che possa spiegare il motivo per cui noi li abbiamo surclassati. Perché noi siamo usciti dall'Africa più volte, probabilmente in gruppi sparuti, come dicevo, 120 mila e forse anche 200 mila anni fa e poi negli ultimi 100 mila anni anche più volte. E già avevamo questa mutazione che i Neandertal non avevano. Avremmo dovuto surclassarli subito, se fosse stata questa l'unica spiegazione. Ce ne devono essere delle altre per spiegare il perché tra i 65 e i 45 mila anni fa invece lì sì Homo Sapiens è riuscito a uscire e conquistare tutto quanto. In altre parole, come minimo servono delle altre con cause. In realtà su questo discorso sul classamento di Neandertal vale il discorso di prima. C'è un mio video che però francamente vorrei rifare. Di nuovo, fatemi sapere, vorrei troppo rifarli perché sono temi a cui tengo troppo, ma d'altro canto mi dispiace che non siano all'altezza anche di voi in un certo senso. Pensate che mentre leggevo questo articolo mi sono tornato in mente delle informazioni che avevo appreso un sacco di tempo fa sul sistema nervoso, sui vari tipi di cellule cerebrali e così via. È una delle cose che adoro di più della scienza. È tutto molto collegato e spesso ecco che una scoperta scientifica in un ambito può aiutare a capire meglio qualcos'altro e questo vale all'interno della biologia ma anche tra tutte le scienze. È pieno di casi in cui una nuova scoperta in chimica o in fisica contribuisce a spiegare qualcosa meglio della biologia o a volte anche viceversa. E questa è una cosa veramente bellissima, è una delle cose che io amo di più dell'attività scientifica. Alla fine tutti i ricercatori del mondo, a modo loro, stanno contribuendo a dare tutti il proprio piccolo tassello per un puzzle gigantesco ovviamente che è quello che serve per capire la nostra realtà. Con questo vi saluto, vi ricordo che sotto c'è il link per NordVPN e dopodiché iscrivetevi al canale ma soprattutto spuntate la campanellina così non vi perderete i prossimi video che come avrete capito saranno su argomenti veramente molto fighi. Ciao a tutti quanti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!